L'idea è che se io mi voglio dire uomo, pur avendo la sesta di tette, posso farlo e tu hai il dovere di rispettarlo, e però quella tapina non ha il dovere di farsi chiamare direttore se le va di essere chiamata direttore, è abbastanza, non lo so, stabiliamo un criterio. Ciao Guia, grazie di essere venuta al podcast. Senti, che cos'è l'era della suscettibilità? È un libro di Marsilio. Dimmi di più. Che cos'è? È quest'epoca che abitiamo, in cui se io ti dico una cosa senza le risate in sottofondo, poi ti devo dire una battuta perché sennò tu ti offendi. In cui se ti dico che non sono d'accordo con una cosa che pensi tu, e la cosa che pensi tu è quella che viene ritenuta l'opinione socialmente presentabile. Quindi se metto in dubbio una cosa di quelle, non so, Walter Citi dice, la letteratura ormai deve solo difendere i profughi, le donne, eccetera. Se tu hai una posizione di questo tipo, che è quella giusta, è quella per cui la società civile ti accoglie fra le sue file, e io invece non sono d'accordo, non è che io e te non siamo d'accordo e amen, è che io sono una disgraziata, devo morire, possibilmente se riesci a scoprire su Google dove lavoro, chiedi il mio licenziamento. Questo comporta dei problemi perché non sempre Google è aggiornato, per cui per esempio il mio licenziamento lo chiedono spessissimo a giornali per i quali non scrivo più da anni. Certo, effettivamente c'è un problema logistico. Senti, in un certo senso c'è un po', la figura del decennio è un po' quella della vittima, c'è un po' una rincorsa a dirsi vittime, cioè non c'è niente di più, passami il termine, cool, di essere una vittima oggi in una maniera o nell'altra. Poi non che non esistano in assoluto delle vittime, però il concetto è stato molto esteso ultimamente, no? Sì, però vedi, il modo in cui tu hai formulato questa domanda dice un sacco di cose, perché noi dobbiamo aggiungere certo che esistono delle vittime, certo che non bisogna picchiare le donne, certo che non bisogna lasciar morire i profughi in mare, ma non potremmo, cioè fra persone normali, sane di mente, non si dovrebbe dare per scontato tutto questo. Certo, assolutamente, e tu a un certo punto parli del contesto nel libro, dicendo su online manca totalmente, o sui social in particolare manca totalmente il contesto e questo è uno stravolgimento importante della comunicazione, sono totalmente d'accordo. Al tempo stesso poi, invece in casi come questo, il contesto c'è ed è un contesto inquisitorio, soprattutto se sei un uomo. Cioè diciamo che il contesto è ben definito oggi quando si parla, ed è, diciamo, alcune categorie, tra cui quella a cui appartengo io, sono colpevole... Sei maschio, bianco, cis, etero, forse, non lo so. No, sì, sì, ma... Patriarchale... Molto patriarchale, no, beh... Sei la stuma dell'impresentabilità sociale, non so perché sono qui a parlare con te, mi rovina la reputazione solo stare per parlare con te. Guarda, ti ringrazio del sacrificio. Però, quello che volevo dire appunto è questo, che in realtà capisco quello che dici e dovremmo probabilmente iniziare in questa... a evitare questo genere di premesse, però effettivamente tu ti muovi in un contesto sociale in cui questa oggi è la regola, no? Devi purtroppo magari farci anche i conti. Sì, però è una cosa che per esempio io ho notato molto nel caso della Rowling, l'autrice di Harry Potter che, come tu saprai, riassumo perché fosse stato su Marte, a un certo punto è stata giudicata impresentabile per aver espresso dei dubbi su quella che è la linea, diciamo, della sinistra americana rispetto ai transessuali. Cioè aver detto che sì, va bene tutto, io rispetto, appoggio e peroro il tuo diritto a, se ti senti donna pur avendo la barba, a farti chiamare lei. Però il sesso biologico esiste, la biologia esiste, viene studiata dagli scolari americani, come vediamo anche nei film in cui sezionano le rane, e quella roba lì non la puoi cambiare. Per aver detto questa cosa lei è diventata il male. Persino quelli che la vogliono difendere ti chiedono, ma tu cosa pensi delle affermazioni transfobiche della Rowling? E ovviamente il definirle transfobiche già ti dice che tu però, anche se la vuoi difendere, hai un po' il dovere di condannarla. Secondo me la cosa affascinante qui in questa parte del dibattito diciamo è che da un lato c'è questa capacità di presentarsi vittime di qualsiasi cosa e dall'altra però controllare i termini del discorso, no? Ed è una contraddizione potente su cui poi però è uno dei motivi per cui questo genere di retorica ha così tanto successo, no? Perché da un lato tu poni ormai in maniera radicale quelli che sono i termini entro cui si può svolgere il discorso. Dall'altra dice beh io comunque sono vittima. Non so se c'è mai riflettuto su questo. Secondo me c'è stato un dettaglio interessante che non è stato colto in quel... Sai che Sanremo è il luogo di tutte le polemiche e una delle polemiche sanremese è stata quella del direttore d'orchestra donna che ha detto che voleva essere chiamata direttore d'orchestra e non direttrice. E questa cosa... Mi sono dimenticata di silenziare il telefono. Questa cosa ha suscitato grande scandalo perché tu hai il dovere di dirti direttrice uno mi ha scritto sui social per tutte quelle persone che lottano ogni giorno. Ora al di là del fatto che l'idea che si lotti ogni giorno per la vocale finale dei sostantivi e non per farsi un mazzo tanto e diventare direttore d'orchestra essendo una donna in un campo in cui le donne storicamente non è che ci siano tantissimo fa abbastanza ridere. Ma fa anche ridere il fatto che il tuo dovere di non chiamarti come ti pare a te cioè in questo caso direttore d'orchestra poi abbia per speculare il mio dovere di... Se tu, Daniele, mi dici io, sì, ti sembro un uomo perché sono qui con la mia barba però io voglio che tu mi chiami Sonia il mio dovere di chiamarti Sonia. Quindi, cioè, l'idea è che se io mi voglio dire uomo pur avendo la sesta di tette posso farlo e tu hai il dovere di rispettarlo e però quella tapina non hai il dovere di farsi chiamare direttore se le va di essere chiamata direttore è abbastanza... non lo so stabiliamo un criterio e lo stabiliamo e deve valere per tutti non solo per le cose che vanno bene a noi Sì, sì, sono d'accordo è stato uno spettacolo abbastanza grottesco il fatto che appunto in un'epoca in cui vai bene cioè in teoria almeno per qualsiasi cosa tu possa fare è ok, anzi deve essere difesa eccetera questa dice voglio... a Venezia dice voglio essere chiamata direttore e non va bene effettivamente però appunto dimostra un po' quanta ideologia c'è dietro poi c'è anche un discorso di lingua perché quello in realtà che non è così insensato come altre cose tipo ministra o sindaca perché effettivamente lì esiste il termine direttrice che uno potrebbe anche usare però comunque... Però ti posso dire io lavoro da 20 anni per giornali femminili dal 2001 quindi sono esattamente 20 anni e sono tutti diretti da donne perché poi anche questa cosa che le donne non dirigono i giornali esclude sempre gli unici giornali che hanno degli introiti cioè i femminili ma va bene lasciamo perdere tutte quelle con cui io ho avuto a che fare in questi giornali e sono tutte donne i cui giornali si guadagnano gli incassi dicendo alle donne che hanno ragione loro che tutti i vittimismi sono giusti che loro sono discriminate che loro valgono che loro meritano eccetera tutte se le chiami direttrice si incazzano ti dicono direttrice è quella della scuola io sono direttore ok quindi non lo so io non sono mai stata direttore di niente se un giorno lo divento ti telefono fammi sapere vada come voglia ok no non c'è dubbio poi in genere questa cosa è grottesca per due motivi uno è che comunque in genere le cariche hanno un valore neutro cioè nel senso una carica una carica uno è ministro è ministro donna è ministro uomo cioè e l'altra è appunto quello che dicevi tu prima c'è questa ossessione l'idea poi alla fine di origine post-strutturalista che se tu controlli la lingua e queste gene desinenze rendi il mondo un giardino fiorito no? che insomma abbastanza tra l'altro è una discussione che ogni tanto faccio con persone per cui scrivo in una lingua romanza secondo me puoi anche usare l'articolo per dirlo cioè io posso dire la ministro sì è bruttino però si può dire sì non so a me non dispiace la cosa dell'articolo beh la valenza estetica poi ha sempre diciamo non è che può essere universale però è vero si può dire certo si potrebbe dire suona sicuramente comunque ancora meglio che ministra non lo so io poi continuo a pensare poi ogni volta che cito la Thatcher mi viene detto ma cosa c'entra quella era la Thatcher ho capito però forse bisogna prendere esempio dai grandi e non dai passanti non credo che la Thatcher si preoccupasse delle desinenze che le mettevano al di là del fatto che l'inglese non ha le desinenze cioè vorrei un mondo in cui si bada la sostanza esatto lo so detto così sembri subito Maurizio Belpietro però è un rischio che purtroppo con questo libro si corre vedi anche tu in questo momento ti adegui al contesto alla fine è un meccanismo quasi inevitabile perché comunque sono posizioni almeno nel mondo dei media maggioritarie questa è un'altra cosa che ti volevo chiedere che comunque esce anche dal libro che poi questi problemi che sono così centrali nel mondo anglosassone poi comunque mano a mano arrivano anche a noi sempre di più perché siamo fondamentalmente provinciali dal punto di vista culturale poi però sono in larga parte totalmente assenti dal mondo reale dal mondo fuori dai media dall'editoria dall'industria culturale chiamiamola così quindi c'è anche questo contrasto fra persone che si preoccupano di non poter dire una cosa e altre che dicono cosa stai dicendo o che non sanno neanche che esiste il problema in realtà sì questo è un dubbio che mi sono posta però secondo me questo ragionamento non tiene conto dei social cioè i social sono pieni di gente che non lavora nei media che non dovrebbe occuparsi di queste cose che dovrebbe avere impegni più prestanti per la propria mente dicevo stamattina a una mia amica perché uno dei cascami di questo libro è che tutti mi inviano casi del giorno e quindi a una cosa che mi hanno mandato stamattina dicevo ma te ne vedi le nostre nonne che lavavano i panni al fiume preoccuparsi di come tizio parlava di caia e se questo fosse sessista o no il vero problema non sono i social è la lavatrice che ci ha liberato troppo tempo ma a parte questo non mi ricordo più cosa ti stavo dicendo perché ovviamente mi sono persa in un inciso come mio costume beh comunque effettivamente c'è da dire che una parte dell'emancipazione femminile ma dell'emancipazione in generale dell'umanità ma in questa cosa stiamo parlando di quella femminile è proprio passata per via tecnologica nessuno nessuno ricorda mai tutti a ricordare i movimenti sociali che sicuramente hanno anche avuto un peso ma nessuno ricorda mai il ruolo come hai detto tu della lavatrice e della cioè degli elettrodomestici che invece in ambito americano fino a qualche anno fa era abbastanza considerato no perché se tu liberi tempo effettivamente una persona ha delle capacità di emancipazione che prima non avevano sì però se lo dici levi la possibilità di fare la lagna sul fatto che il lavoro di cura cade tutto sulle spalle delle donne istanza alla quale io avrei due obiezioni una è che se i calzini sono per terra e per te è un problema risolvitelo nel senso per me non è un problema i calzini restano per terra oppure sono una donna credo non lo so questo direbbero loro è il genere che mi hanno assegnato alla nascita perché c'è anche questa cosa del genere assegnato alla nascita che è un'altra fantasia mica male scusa io non è stato un po' ho la rincia sembro una cocainomane l'altra cosa non me la ricordo più perché mi sono di nuovo persa in un inciso no comunque scusami a questo faccio una postilla sono due problemi ovviamente che si muovono in contemporanea nel senso uno è l'allocazione del tempo all'interno di una famiglia e lì effettivamente si può fare il caso che non necessariamente debba essere fatta tutta una donna l'altro è la contingenza storica in cui in un periodo in cui effettivamente andava così l'avvento di queste tecnologie ha permesso una liberazione quindi capito ah no ecco qual era l'altra cosa l'altra cosa era che non possiamo parlare come si fa della diciamo io sono il grado zero della casalinditudine quindi non faccio testo ma anche se una è il grado 10 comunque il grado 10 in un'epoca in cui ha la lavastoviglie la lavatrice le consegne a domicilio dei pasti cioè non è come era per mia nonna che se doveva mandare avanti la casa doveva fare solo quello sì certo perché lo portava via oggettivamente tutto il giorno sì 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 ma in un senso assoluto per diciamo per chiudere questo argomento tecnologico anche se la ripartizione fosse perfettamente 50-50 comunque queste sono cose tecnologie che libererebbero il tempo però l'altra cosa cioè una delle tante cose che dici secondo me rilevanti nel libro è anche la questione che in determinati ambiti secondo me più che in altri questi di cui stavamo parlando oggi una donna spesso può avere il dubbio se sta facendo un lavoro perché soprattutto diciamo se l'ha acquisito di recente perché effettivamente brava o perché serviva una donna non so tu come la serve una donna è una grande frase serve una donna è una cosa che una mia amica dice mi viene il cuore piccolo quando succedono quando sento queste cose quando tu sei in una riunione e senti serve una donna e sei una donna credo che il mondo si divida in quelle che dicono è un progresso perché così inviteremo una donna a questo talk show metteremo una donna in questo consiglio di amministrazione eccetera e in quelle che pensano mio dio io adesso non saprò mai se sono qui perché valgo qualcosa o perché ho i gameti giusti certo sì esatto la cosa sia poi molto rilevante perché se mi pagano va bene uguale però no però effettivamente è un problema insomma che che può dare fastidio dalle persone che mettono al centro della propria vita anche il loro valore sul lavoro o comunque lo ritengono importante magari non nel centro però comunque lo ritengono un fattore importante alla propria identità beh sì perché poi nessuno vuole sentirsi dire cioè neanche il raccomandato vuole sentirsi dire sei qui perché sei raccomandato no non è a meno che non sia proprio un personaggio vanziniano di perbole della propria superficialità e senti e invece nel rapporto a cui accennavamo prima fra appunto il mondo anglosassone dove tutto questo è molto più diffuso e il nostro dove comunque si sta affermando appunto come dicevamo in maniera comunque importante qual è cioè come lo vedi il rapporto fra i due mondi in questo momento beh mi pare che noi siamo in una in un continuo tentativo di emulazione oltretutto senza che ne esista il brodo di cultura nel senso che in Italia non so se a te sia mai capitato a me è capitato che chiedessero appunto a gran voce il mio licenziamento di solito al giornale sbagliato ma anche quando riuscivano a chiederlo al giornale giusto poi non succedeva niente perché non è come cioè a me è capitato al giornale dove lavori tu adesso l'unica volta che è capitato autorevole direttore di altro giornale ha chiesto il mio licenziamento il mio direttore che l'ha detto ma guarda anche no per cui ancora oggi sono riconoscente ma è un altro discorso e no scusa mi ti interrotto dicevi? no però l'attenzione perché secondo me è un altro è un altro meccanismo il direttore che chiede all'altro direttore cioè è una è una cosa che passa diciamo sopra le teste della plebe adesso ho detto plebe per questo verrò linciata ma tanto credo che nel corso di questa conversazione potremmo forse completare la tessera punti del linciaggio la richiesta dal basso questa è una cosa abbastanza interessante che è successa con l'intervista di Harry e Meghan Markle il figlio dell'erede al trono in Inghilterra e la moglie hanno dato questa intervista Oprah Winfrey sempre perché se uno è stato su Marte non lo sa e in questa intervista hanno detto varie cose abbastanza un manifesto del vittimismo diciamo se forse potrei farci un appendice al libro c'è questo giornalista inglese a cui piace Ariel Bastien Contrario si chiama Pierce Morgan è un signore di 55 anni che a 29 era direttore di un tabloid quindi non è proprio l'ultimo scemo arrivato sulla terra e però gli piace molto andare controcorrente e una delle cose che lui dice da prima di questa intervista è che loro sono due disgraziati che infelicitano la regina che guai a chi fa del male alla regina eccetera perché poi gli inglesi diciamo hanno anche questa cosa della monarchia che non è tanto sana di mente ma non importa lui adesso conduceva un programma del mattino una specie di uno mattina d'Inghilterra fai conto e in questo programma ha detto che lui non credeva una parola di quello che Meghan Markle aveva detto nell'intervista sono successe due cose interessanti a questo punto una è che uno dei suoi co-conduttori ha fatto tutto un pistolotto dicendo basta noi stiamo qui tutte le mattine ad ascoltarti parlare male di lei solo perché eravate amici e poi la non ti ha più parlato e lui a quel punto si è alzato offesissimo e se n'è andato in diretta e questa cosa della suscettibilità degli antissuscettibili fa molto ridere cioè uno ti dice che non è d'accordo con te stai lì e lo ascolti è il tuo lavoro fai la televisione resti in studio non pigliate ne vai e questa è una delle cose l'altra cosa è che il giorno dopo lui non si capisce bene pare che si sia licenziato lui ma forse l'hanno licenziato loro non si sa comunque non fa più questo programma e questa cosa è successa anche perché in Inghilterra c'è un meccanismo di controllo una specie di garante delle comunicazioni che ha ricevuto scrivo nei giornali 40.000 richieste di cacciarlo per aver osato dire che Meghan Markle non era una a cui credere fra le 40.000 c'è la richiesta di Meghan Markle quindi la domanda è lui ha fatto la plain ha preso sia il popolo che chiede a gran voce dal 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 suo non essere non avere voce e però ristabilendo diciamo una una cosa di pesi e contrappesi chiede la cacciata del potente se in mezzo a questo popolo però c'è quella che ha fatto 17 milioni di spettatori con la sua intervista televisiva vale ancora come richiesta popolare oppure è come il direttore che chiede all'altro direttore sì diciamo che tutte e due le cose messe assieme in un certo senso e poi comunque in generale cioè la logica del popolo che chiede la cacciata innanzitutto un popolo quanto tu dicevi 40.000 persone su quanti quanti milioni ce ne sono anche volendo accettare questa logica plebiscitaria anche lì si rischia un po' di sovrastrur Rousseau sì Rousseau però nel senso con un un tetro come piattaforma non come ah ok come distorsione cognitiva sì appunto esattamente come Rousseau la piattaforma nel senso che sono quattro gatti però sembrano sembrano milioni anche quando sono qualche decina di migliaia di persone poi non sono rappresentativi secondo me si è perso un po' quell'attitudine che avevamo come civiltà al processo nelle sedi dei processi che per carità erano imperfetti ne abbiamo visti anche tanti ma siamo sicuri che avevamo questa attitudine perché ti ricordo Barabba Barabba che è un po' il mito fondativo della nostra civiltà però è sempre una tensione un po' fra le due cose però adesso si sta tendendo più verso appunto il processo immediato con i forconi come i Simpsons quando a un certo punto la scena di corrente dei Simpsons quando c'è tutto il popolo con le torce e i forconi che capita molte volte durante le stagioni stiamo andando verso un'estremizzazione di questa cosa qui ma tu parli anche del caso di Lucy Kay o ancora più evidente Woody Allen una persona che è stata assolta in tutte le sedi possibili immaginabili che viene ancora massacrata cioè nel senso è come se l'istituto del processo fosse molto meno importante di quello dei social però il caso di Woody Allen secondo me è un po' diverso dagli altri perché il caso di Woody Allen chi l'ha seguito e chi tu no perché sei orrendamente giovane ma insomma chi era vivo in quegli anni se lo ricorda il caso di Woody Allen fu un caso aperto e chiuso nel senso che all'epoca non c'era nessuno che dubitasse del fatto che Mia Farro era una mitomane questa cosa è stata talmente archiviata che per dire nel 2002 ai primi Oscar dopo l'11 settembre è stato chiamato Woody Allen in rappresentanza di New York a fare un monologo con tanto di applausi in piedi eccetera ovazioni varie questa cosa qui è tornata fuori quando un po' prima del me too la figlia di la presunta vittima ha detto scusate però vi occupate di tutti tranne che di me e di fronte al ricatto dolente di io sono l'unica della cui molestia non vi preoccupate perfino Asia Argento a dignità di stampa io no lei non l'ha detto ma secondo me lo pensava questa cosa era cioè come fai a dire non me ne frega niente che tuo padre ti ha messo le mani nelle mutande devi dire non ti credo però se dici non ti credo lì è particolarmente una trappola rispetto alle altre storie di molestie perché sta dicendo tua madre ti sta facendo il lavaggio del cervello da 25 anni che è un'idea atroce molto più atroce del fatto che tuo padre ti abbia molestato sì però anche il ruolo del figlio di Mia Faro in tutto questo cioè che è uno come giornalista lo sbaglio però lui era ancora più piccolo cioè lui è ancora perché non è che la proporzione degli anni cambia nel tempo lui è più piccolo di lei quando è successa questa cosa lui aveva 4 anni possono avergli raccontato qualunque cosa possono avergli fatto credere qualunque cosa no no ma diciamo quello che dicevi tu secondo me è difficile che non sarebbe stato difficile che non tirassero di nuovo fuori avendo avuto lui anche questo ruolo centrale nel Me Too no è diventata firma di punta se vogliamo giocare più con lo psicanalista sono anche abbastanza convinta che questa cosa abbia avuto un ruolo nel suo avere un ruolo nel Me Too quando lui ha fatto il primo libro subito dopo il Me Too e andava a promuoverlo in televisione la cosa assurda è che nessuno tranne Steven Colbert che è un comico gli ha chiesto questa cosa nessuno gli ha chiesto scusa ma il fatto di Woody Allen le moleste ha avuto una parte nel tuo voler volerti occupare di queste storie nessuno come non so le domande devono farle i comici anche questo sarebbe da scusami è anche interessante il fatto che in un'epoca in cui la biografia è l'appartenenza a una determinata categoria disagiata ti definisce in toto come essere umano nessuno avrebbe fatto questa domanda sì perché è come se ci fosse il dovere di considerare freddamente le sue doti di giornalista boh non lo so però un po' arbitra cioè nel senso a me sembra sempre che da un lato ci sia questa generalizzazione assoluta delle cose per cui una persona in un determinato momento quando conviene è un po' il discorso sulla Venezia di prima quando conviene allora è una vittima sistemica che non poteva fare altrimenti quando non conviene più allora va considerata nella sua individualità c'è un po' questo continuo sì diciamo non c'è una grande è una cosa che a un certo punto accenno nel libro c'è il rifiuto totale di stabilire un criterio e usarlo anche per quelli che ci stanno antipatici o usarlo per quelli che ci stanno o un criterio negativo e usarlo per quelli che ci stanno simpatici cioè le cose non valgono mai per le cose in sé ma valgono per chi le dice c'è un forte ritorno un po' al tribalismo da questo punto di vista cioè manca una visione condivisa dalla società in cui poi si possono sviluppare delle differenze come è giusto che sia però con un almeno con uno sfondo condiviso oggi lo sfondo condiviso sembra quasi scomparso sì viviamo in una gigantesca curva di stadio per cui se tu dici una cosa stronza ma sei nella mia curva dello stadio io trovo il modo di giustificarti se tu sei nella curva dello stadio opposto e dici una cosa tutto sommato non grave Dio la tratto come se ci volesse il 41 bis beh ti dice anche un'altra cosa che c'è sostanzialmente un grosso incentivo all'indignazione attraverso i social perché tu comunque sui social ottieni attenzione ottieni like follower che poi si possono convertire in denaro anche se poi insomma la manovra è sempre meno non è così matematica è così ovvia però insomma c'è chi ce la fa e quindi c'è un grosso incentivo ma forse anche solo ottieni di farti notare sì ok anche se arrivare cioè non diventi necessariamente chiara ferragni però hai il tuo quarto d'ora di gloria certo però diciamo hai un c'è un meccanismo di incentivi a comportarsi in questa maniera a dirsi indignati per qualsiasi cosa non può cioè anche questo proprio come sono fatti i social che anche poi le persone che li usano ovviamente ma entrambe le cose no questo tu lo dici mi sembra nel libro ma basta vedere io sono sempre stupita quando qualcuno mi dice ah è in tendenza su twitter perché a me nella vita non mi è mai venuto in mente di andare a web a retendenza su twitter però è sicuramente un limite mio nel senso però ma anch'io non lo mai cioè non capisco perché dovrebbe interessarmi che ti perdi sono un limite tuo non sono una non passi questa per una mia affermazione di superiorità intellettuale però forse bisognerebbe riflettere su questa cosa che ci siano quelli che vanno a guardare le tendenze cioè qual è l'argomento di cui tutti stanno parlando per inserirsi nella conversazione di maggioranza cioè per essere anche loro invitati alla festa cool delle scuole medie sì beh è certo che appunto sì proprio ci sono dei meccanismi banalmente cioè su come funzionano gli algoritmi di questi social che ti ricompensano in termini di attenzione se ti esprimi sul tema del giorno questo è un po' credo il punto sì poi c'è anche un'altra questione se stiamo parlando di commercio c'è anche un'altra questione che invece riguarda le aziende per cui tutto questo posizionarsi quello che gli americani chiamano virtue signaling cioè far sapere che tu sei dalla parte giusta dalla parte dei buoni tutto questo posizionarsi in realtà è un cioè noi facciamo da portatori d'acqua per le multinazionali sostanzialmente adesso non per fare quella contro le multinazionali che anzi se vogliono fare dei contratti io sono qua però per esempio per dirne una la più facile body positivity che è un cancelletto che si porta molto ultimamente che significa io mi piaccio così come sono vado bene anche se sono chiatta vado bene anche se ho l'acne vado bene anche se non ho i capelli di come si chiama di Heidi Klum tutta questa roba qui doveva teoricamente essere la fine della cosmesi perché se io vado bene così come sono non mi serve la tua crema non mi serve il tuo mascara eccetera invece è stata immediatamente ingoiata dalle multinazionali dei cosmetici che adesso ti vendono i loro prodotti di bellezza col cancelletto body positivity sì certo sei grassa ma vuoi mettere come sarei bella grassa e idratata comprati la mia crema è un bis pensiero un po' orvegliano no è una cosa completamente lunare sì sì sono d'accordo d'altro canto è un po' un'estensione questa cosa del devolersi bene per quello che si è che in sé voglio dire non è che ci sia niente di male ma farne un sistema oddio secondo me c'è qualcosa di male cioè cerca di essere un po' meglio di come sei di Haru ecco diciamo poi bisogna intendersi su ogni persona credo può cercare una direzione verso quale migliorarsi però è una tendenza questa che viene da lontano ti ricordi quei telefilm anni 80 americani dove la frase ricorrente era vai bene come sei si te stessa si te stesso questa cosa qui poi è diventata di massa sistematica nell'era dei social ma in un certo senso questo meccanismo viene dal dal novecento come tutto e viene dallo spot dell'oreal perché tu vali che è cambiato negli anni perché io valgo perché tu vali ma sempre quello è il concetto che tu comunque hai un valore non si sa così di fabbrica già uscì vieni al mondo hai un valore non è detto insomma non so vediamo adesso o magari non hai tutto il valore nel senso è ovvio che persone in quanto tali questo anche fa parte della nostra cultura diciamo attraverso i secoli hanno un loro valore però certo quel valore non è zero ma non è neanche 10 per arrivare a 10 dovresti fare delle cose no? no sì anche perché l'idea che un premio Nobel valga quanto una celtrona come me è un'idea che sarà politicamente spendibile con lo slogan uno vale uno ma è abbastanza una stronzata l'altra matrice secondo me sta in Bridget Jones che è stata una rubrica di un quotidiano poi è stato un romanzo e poi è stato un film e ha il problema come ce l'hanno molte cose che il livello di satira è passato completamente sopra le teste della più parte del pubblico che l'ha preso per un modello comportamentale per cui quando il principe azzurro di Bridget Jones le dice mi piaci così come sei la spettatrice media dice ecco questo è ciò a cui devo ambire uno che mi prenda così come sono non che io tenti di migliorarmi perché tanto io già valgo me l'ha detto la pubblicità dello shampoo ma che mi prenda così come sono no certo infatti questa situazione in cui la satira può passare per invece per insegnamento paradossale tu ne parli anche riguardo alla grande bellezza devo dire che un po' questa sensazione ce l'ho avuta anch'io poi nel tempo l'ultima volta che l'ho rivista tutto sommato forse però era più satirico di quanto mi era sembrato all'inizio ma guarda questa cosa è uscita fuori a libro finito nel senso che poi tu sai meglio di me che i libri non si finiscono si abbandonano che è una situazione di qualcuno ma non mi ricordo di chi e però a un certo punto diciamo il libro era più o meno finito ma io continuavo ad aggiungere pezzetti di cose che mi venivano in mente e a un certo punto mi è venuta in mente questa cosa della grande bellezza che poi dopo ho pensato che era anche adattabile a oddio come si chiamava il film di Virzi il capitale umano ah ok nel capitale umano c'è un personaggio di teatrante intellettualino di sinistra che ha in casa i poster di Carmelo Bene super caricaturale e io invece quando lo vedi pensai vabbè ma che cialtroni ma dai ma cos'è sta roba mai pensando che loro mi stavano proprio dicendo che quello era un personaggio da prendere per il culo cioè questa cosa che come io dico nel libro anche noi siamo a un certo punto i cretini dell'internet di qualcuno tutti siamo a un certo punto i cretini di qualcuno io sono quella che non ha capito né Jeff Gambardella né il personaggio del capitale umano quindi diciamo no ma infatti capisco quello che dici sono d'accordo perché comunque siamo inseriti anche in un meccanismo di immediatezza per cui spesso anche con le migliori buone intenzioni o sforzo intellettuale diciamo poi si finisce per qualche volta per reagire nei termini in cui funziona questa conversazione quindi termini immediati termini di rabbia perché cioè poi il punto è che quello che veramente funziona in termini assoluto è scritto questo libro che è scritto su della carta ci sarà anche la versione book immagino però uno deve prendersi la briga di andare a leggerlo fare una conversazione mentale con te che sei la autrice di questo libro eccetera eccetera e tutto questo è bello ma costa fatica e invece è molto immediato fare un tweet che se la prende con qualcuno che ha detto una cosa che tu magari come dici tu totalmente fuori contesto interpreti in maniera sbagliata e ottenere visibilità cioè sono due meccanismi comunicativi anche se è un termine scivoloso però diciamo totalmente diversi no? e però l'altro in tutti i casi citati c'è quello di Mel Gibson e di Winona Ryder che fa abbastanza ridere per cui l'anno scorso ci siamo tutti scandalizzati perché in un'intervista Winona Ryder ha raccontato che non so 15 anni fa a una festa Mel Gibson che è un attore che ha precedenti di accuse di antisemitismo eccetera le aveva detto ah tu sei ebrea quindi sei sfuggita ai forni mi pare una cosa del genere adesso non mi ricordo la frase esatta e quando è uscita questa intervista in epoca di social e la pagina del giornale che l'aveva pubblicata è stata prontamente screenshotata e messa sui social è stato lo scandalo dei social per 24 ore perché poi di più non dura però a un certo punto è arrivato un signore che ha detto ma veramente questa cosa la Ryder l'aveva già raccontata in un'intervista a me che l'avevo pubblicata sul mio giornale dieci anni fa certo e però non aveva fatto lo screenshot e quindi non è che noi possiamo pensare di comprarci un giornale leggere tutta l'intervista discutere del passaggio eccetera no arriva lo screenshot indignazione immediata questo lo screenshot è stato una ieri un amico mi ha mandato una battutaccia su degli amici comuni e poi appunto sempre siccome viviamo tutti nella paranoia mi ha scritto scherzavo e io gli ho scritto troppo tardi perché ormai l'ho screenshotata e gliel'ho mandata e lui giustamente diceva ormai per lo screenshot ci vuole il porto d'armi perché è una cosa con cui uno ti può rovinare per sempre cioè è la vera arma di fine di mondo sì certo ma ci sono credo dei social che c'è delle app di messaggistica che non lo permettono lo segnalano credo mi sembra sì ci sono sì forse quello è un po' il futuro da questo punto di vista mi dicevano anche degli ospiti qua che comunque questi social di cui parliamo noi perché poi sono quelli che usiamo sono poi anche un po' generazionali nel senso che le persone più giovani magari usano TikTok TikTok sì cosa c'era una volta adesso non si usa più forse Snapchat anche che aveva anche questo genere di cose credo che sia caduto un po' in disuso però io considero il mio dovere morale disinteressarmi dei giovani nel senso sembra che uno dei grandi mali del nostro tempo sia la mia generazione e la sua sma diciamo la mia generazione e il grande male del nostro tempo ma in dettaglio la sua smania di stare dietro ai consumi culturali dei ragazzini cioè i miei genitori vabbè i miei genitori erano particolarmente disinteressati però in generale i genitori delle mie coetane non sapevano neanche che musica ascoltavamo non sapevano che film guardavamo cioè l'unica cosa che gli interessava era che tornassimo a casa entro una cert'ora sì sì ma io lo trovo abbastanza sano questo e purtroppo non è più così perché sanno le parole delle canzoni dei cantanti che piacciono ai figli vanno ai concerti coi figli cioè è una cosa fuori dalla grazia di Dio tutto questo guaio secondo me l'ha cominciato la Pixar facendo i cartoni che piacevano ai grandi e quindi illudendoli che si potessero avere consumi culturali in comune può essere non lo so però effettivamente quelli della Pixar in genere sono buoni però sono d'accordo con te ma sai questo è forse anche un po' un tentativo penso a livello inconscio di unire un po' delle generazioni che che vivono in mondi totalmente diversi no? mentre magari proprio per i ritmi dati dalla tecnologia che oggi tutto va molto più in fretta e le vite di generazioni che hanno dieci anni di differenza sono molto diverse soprattutto culturalmente una volta c'era l'età diciamo dello sviluppo e l'età adulta punto cioè nel senso c'era capito invece adesso c'ha i blocchi di dieci quindici anni che vivono in mondi paralleli all'interno di una società no? questo per certi versi è complicato io credo che sia figlio anche questo del nostro sentare di emulare l'America e quindi di aver iniziato anche noi a dare nomi alle generazioni che era una cosa loro cioè quando io avevo vent'anni e chi era Cameron Crowe non mi ricordo chi era che aveva fatto un film sulla generazione X io apprendo da lì che noi ci chiamiamo generazione X ma se no non l'avrei mai saputo vivendo a Bologna o a Roma o dove diavolo vivevo all'epoca certo eh sì c'è un po' infatti alle volte mi capita di sentire delle conversazioni intelligentissime di americani e poi appunto però mi cadono su questa questione della generazione che loro pongono veramente al centro di tutto e questo c'entra un po' in quello che dici anche tu nel libro sul fatto che alla fine tutta questa identity culture ti tiene presente qualsiasi cosa tranne la condizione socio-economica delle persone no? Sì questa è una cosa pazzesca questa è una cosa veramente pazzesca ieri sera rivedevo Tamborin che è un monologo di Chris Rock del 2018 Chris Rock è uno dei due o tre comici più intelligenti d'America e infatti ha la terza media ma questo diciamo ho scoperto di recente che tutti quelli intelligenti hanno la terza media Fra Lebovitz ha la terza media Chris Rock ha la terza media mi ha rovinato il liceo per quanto l'abbia frequentato davvero poco a parte questo lui ha fatto questo monologo che anche se non l'hai visto l'hai visto perché è quello che è stato molto citato in coincidenza con la morte di George Floyd nel passaggio in cui lui diceva dicono che i poliziotti che uccidono i neri sono mele marce ma ci sono categorie che non si possono permettere di avere mele marce non è che il pilota ad aereo può dire non è che la compagnia aerea può dire quasi tutti i nostri piloti amano atterrare ma gli amano schiantarsi contro le pareti di roccia cosa che peraltro poi è statisticamente vera ma comunque sì e quindi lo sono andata a rivedere perché secondo me adesso Netflix ne ha messo ne ha reso disponibile una versione estesa e nella versione estesa si capisce ancora di più che in realtà quel monologo lì era un monologo sulla classe sociale in cui lui ti dice che sì va bene i bianchi e i neri ma quando noi diciamo neri intendiamo poveri lui dice una volta c'erano i cartelli qui i neri non possono entrare perché ricordiamo agli emuli dell'America d'ascolto che l'America era segregazionista fino all'altro ieri adesso non ci sono i cartelli qui i neri non possono entrare però da Whole Foods che è una catena di supermercati fighetti americana un'arancia costa 7 dollari e questo mi dice che io se sono nero e non sono milionario come Chris Rock lì dentro non ci posso entrare perché non me la posso permettere molto banalmente cioè lui dice dove una volta c'erano i cartelli adesso ci sono i prezzi sì poi loro hanno una società ancora più compartimentata della nostra per classi sociali per etnie nel senso che anche da noi ci sono quartieri che costano di più quartieri costano di meno ma lì c'è proprio quartieri definiti anche socialmente ed etnicamente in maniera quasi quasi omogenea questo è abbastanza inquietante per certi aspetti e soprattutto c'è la sanità a pagamento che è una discriminante non da poco io sono rimasta sconvolta dal numero di articoli che ho letto nell'anno della pandemia sul fatto che i neri morivano di più e che quindi bisognava insegnare ai medici come curare i neri come se morissero di più per una questione di pigmentazione non perché essendo più poveri vengono curati peggio sì lì c'è una teoria che io non sono non sono un medico quindi te la riporto così sulla questione della vitamina D che ovviamente più il pigmento è scuro meno vitamina cioè nel senso tu sei tarato biologicamente per per una determinata fascia di sole e quindi in genere nel nord america gli afroamericani i neri hanno meno vitamina D e questo potrebbe aver influito però ripeto io non ho le competenze per dire se sta cosa è plausibile però sicuramente mentre questo non lo so quello che dici tu sicuramente è vero no ma poi io non voglio dire che la cosa che dici tu non sia vera o che non ci sia un elemento medico in assoluto innanzitutto perché non lo so e vorrei evitare di essere una dei molti che parlano di cose che non sanno ma per esempio c'è anche una cosa sulle donne che si dice spesso che è che i sintomi dell'infarto che vengono insegnati ai medici sono i sintomi che hanno i maschi e che quindi spesso i sintomi dell'infarto delle donne vengono liquidati come se fossero altro e quindi non vengono curate nel modo giusto io non dico che tutto questo non sia vero io dico che eliminare completamente la componente economica è una stronzata sono d'accordo totalmente ma scusami ma per paradosso adesso sentendo di parlare mi è venuta in mente sta cosa ma sappiamo che l'incidenza delle morti da covid è più alta negli uomini ma tu immaginati se fosse stato il contrario a che campagna avremmo assistito in quest'ultimo anno cioè in una maniera ci sarebbe stato pensa ai cancelletti pensa ai cancelletti sì sì ma guarda l'altro giorno cercavo i dati sui morti sul lavoro in Italia e volevo sapere quanti sono gli uomini e per una cosa che stavo scrivendo ma tu sai quanto ho dovuto cercare non c'era modo di saperlo tutti gli articoli riportavano l'aumento dei morti sul lavoro sono per lo più cantieri e fabbriche direi che saranno tutti uomini sono mi sembra vorrei dire una cosa però nell'ordine del 97% uomini però c'era un lieve aumento in termini veramente decimali delle donne e tutti gli articoli che ho trovato su google parlavano di questo stiamo parlando di un passaggio che era adesso veramente non voglio essere impreciso però nell'ordine decimali quando il 97% erano uomini e di questa cosa nessuno ne parlava soprattutto se c'è un aumento delle morti femminili vuole semplicemente dire che le donne iniziano di più a fare lavori di fatica lavori di cantiere questo non lo so però comunque sai c'è un fenomeno che a più del 95% interessa un sesso e tutta la copertura riguarda l'ultra minoranza è un fatto culturale rilevante secondo me te la dice chiara sul clima io sono abbastanza contraria in generale a dividere le cose per gameti perché non sono affatto sicura che la mia caratteristica precipua sia essere una donna cioè trovo che mi definisca molto di più essere una fan di guccini che avere le tette non so no sono d'accordo sono d'accordo ma infatti era un po' il tema che la cosa che volevo dimostrare però mi serviva questo dato e mi sono rimasto colpito da questo film sono d'accordo con te su questo assolutamente ma anche sulle opere chi se ne frega chi le ha scritte chi le ha girate se no per è bella è bella no? ieri sera stavo pensando mi è venuta improvvisamente questa folgorazione siccome ormai vale solo la percezione e se tu appunto se io mi percepisco uomo posso arrivare correggessene al balconcino e dire sono un uomo se Martin Scorsese se Martin Scorsese domani dice che si percepisce donna entra nelle quote rosa dei festival eccetera come funziona e poi è retroattivo perché secondo i ben pensanti questa cosa è retroattiva sai che quando il patrigno della Kardashian Bruce Jenner ha fatto la transizione diventando donna e chiamandosi Caitlyn si è posto il problema Bruce Jenner era stato un atleta olimpico e negli articoli che raccontano se tu domani vuoi scrivere per qualche ragione tua delle olimpiadi del mi pare 72 non mi ricordo neanche anno fosse in cui lui ha fatto il pentathlon non puoi dire lui devi dire lei mi sa che in ambito il problema è che il pentathlon femminile non c'era alle olimpiadi del 72 e quindi non la sapevo però non è male e quindi e lui ha vinto una medaglia in quello maschile lei lei per carità ho detto no 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 perché c'è anche il misgendering che è quando ci sono due cose in questo il misgendering e il dead naming in inglese mi sa che per dead naming ti chiudono senza appello l'account twitter se non sbaglio credo di sì sì ce l'hanno stati dei casi non mi ricordo ma ce l'hanno stati perché poi a un certo punto io ho deciso basta che non seguivo più queste cose questa è una cosa importante a dire sul tuo libro che si fa leggere nonostante questi temi sono veramente deprimenti per molti aspetti uno dei motivi per cui questa cosa sta vincendo nel mondo poi non so quanto durerà però al momento sembra così è che tanta gente che non è d'accordo cioè proprio si stufa perché è talmente assurdo che non ne vuoi neanche sentir parlare quindi anche io ho molti libri in inglese sul tema molti li ho letti alcuni non ci ho fatto a finirli perché mi facciano stare troppo male invece il tuo è un libro che si legge anche con piacere è un ragazzo sensibile no vabbè ma perché io tengo molto la libertà d'espressione e secondo me veramente questa è una deriva molto molto pericolosa cioè non è una roba di folklore è veramente va a toccare le basi di quella che è la nostra civiltà secondo me e questo mi preoccupa e poi in generale è sempre io non mi compiaccio ho smesso anzi forse di compiacermi della stupità di alcune persone è una cosa che più che altro mi deprime non è che mi sento più intelligente e quindi dopo un po' però ecco questo è invece un libro che non so bene come hai fatto però si legge nonostante appunto questi temi possano essere un po' respingenti si legge si legge con molto piacere questo devo dire è un merito vabbè accantoniamo questa cosa che i complimenti sono sempre imbarazzanti però sì è vero e fra l'altro non so se capita anche a te ma a me capita di parlare con persone specialmente adesso che il libro è uscito e quindi mi arrivano messaggi di gente con cui io magari non avevo mai parlato di queste cose e scopro che c'è tutto un mondo che ignora completamente queste dinamiche esatto cioè una persona l'altro giorno mi ha scritto ho scoperto dal tuo libro l'esistenza della parola walk e sono sconvolta walk è il termine con cui si definiscono quelli dalla parte dei giusti diciamo e quindi è sempre un po' straniante no? perché poi quando tu stai io ho raccolto roba per questo libro per quattro anni forse quindi sono stata abbastanza immersa in questi temi e a un certo punto inizia a dare per scontato che tutti parlino la tua lingua no? certo e invece non è così no allora nelle terminologie anche nella storiografia del problema che fai tu eccetera sicuramente in Italia non sono tante le persone che sanno queste cose però sì come dicevi tu all'inizio forse l'impatto poi a cascata di questa cosa attraverso i social almeno quello che filtra quello è probabilmente più esteso però effettivamente sì non mi stupisco che woke sia un termine poco conosciuto in Italia mi sembra conseguente però gli effetti della woke culture quelli invece magari sono già più diffusi no? no ma poi fra l'altro forse il fatto di non saperne troppo fa anche passare una versione molto semplificata delle cose per cui tornando all'intervista di Meghan e Harry le reazioni alle quali secondo me sono state un grande parametro per valutare queste dinamiche qui la cosa che passa è ma se tu sei contro di lei che poverina ha sofferto sei una stronza che non è empatica con quelli che hanno sofferto cioè fare un discorso minimamente più complesso sulla manipolazione mediatica sulla carta ricattatoria sulle varie carte ricattatorie che ha giocato lei il razzismo il suicidio eccetera è inaccettabile perché cioè quella che passa è una dialettica da scuole medie i buoni i cattivi sì è il discorso un po' che ti facevo prima sulle piattaforme nel senso che comunque quel tipo di comunicazione è più amplificata per come è fatta proprio come sono fatti questi network cioè si amplifica di più tu fai libro non ne parliamo perché appunto come dicevamo prima dicevi tu cioè è una cosa uno deve comprarlo legge eccetera ma in genere anche sullo stesso social farò una distinzione fra bene e male un pochettino più articolata fare un po' di storia di quello che è successo già questo ti riduce l'impatto in assoluto in termini assoluti magari diventerai l'idolo di una piccola nicchia di gente che sta attenta a queste cose ma poi tra l'altro se come social prendi twitter hai addirittura il limite di battute quindi non è la possibilità di articolare un pensiero complesso cioè twitter va bene per Carl Krauss non per Elias Canetti sì sì quello è twitter è proprio un male del secolo cioè soprattutto questa cosa della lunghezza io non ho capito mai sin dall'inizio perché cioè qual è non che facebook dia molte più prove di cose virtuose però insomma twitter è proprio è veramente difficile fare una conversazione sensata su twitter anche perché manca proprio spesso e volentieri proprio per via della lunghezza o della brevità il discorso del contesto cioè se tu hai un'affermazione e levi il contesto è diventata equivocabile per definizione no? sì il punto è che secondo me ormai è eroico fottersene dell'equivocabilità cioè nel momento in cui tu fai una battuta non metti le faccette non metti le spiegazioni non chiedi scusa sei già un eroe c'è un caso che io cito che è il caso di questa cantante che si chiama Sia non so se si pronuncia Sia non lo so comunque scritto come se fosse un congiuntivo la quale ha fatto un film sul su un personaggio autistico ed è stata aggredita perché nel film cioè l'attrice che interpreta l'autistica non è davvero autistica lasciamo perdere che il personaggio è il personaggio di una totalmente incapace a relazionarsi con gli altri quindi non si sa bene come una in queste condizioni avrebbe potuto recitare su un set ma al di là di tutto però l'identitarismo vince su tutto e quindi lei è stata è stata aggredita per questa cosa e lei ha fatto una cosa che nessuno aveva mai fatto almeno in questi anni in cui ho osservato questi fenomeni ha tenuto il punto cioè ha detto io il film l'ho fatto come pensavo che andasse fatto eccetera io a quel punto subito l'ho inserita come mia eroina in una pagina non ho fatto in tempo cioè ho fatto giusto in tempo ad andare in stampa che lei ha iniziato a scusarsi cioè era l'unica che non si era scusata io l'avevo presa ad esempio e dopo tre settimane ha ceduto quindi ottimo senti ma ieri ho visto della serie di Gucci con attori italiani eh sì attori americani regista americano girato in larga parte in Italia mi sono chiesto perché questa è un'appropriazione culturale certo come funziona questa va bene cioè per carità io leverei il concetto in generale ovviamente però a questo punto che poi non siamo considerati un popolo abbastanza inferiore per valere l'appropriazione culturale il che mi stupisce francamente il problema cioè l'idea che siccome Barack Obama è nero se un bianco fa una cosa su di lui è appropriazione culturale e invece un calabrese non è non è appropriato culturalmente fa abbastanza ridere no? sì assolutamente fa parte di quel doppio standard di cui si parlava prima no? stamattina c'era una notizia c'era stata per la settimana scorsa questa notizia della traduttrice olandesa di Amanda Goma incredibile quella quella è veramente boh Amanda Gorman lo dico per chi non lo sapesse era la poetessa vestita in prada perché per me il tratto significativo era quello che ha letto la poesia all'insediamento di Joe Biden e ovviamente è immediatamente diventata una celebrità e quindi tutti vogliono tradurre le sue poesie lei si era scelta lei si era scelta sottolineo una traduttrice olandese perché era una giovane scrittrice che ha vinto un premio quando era molto giovane quindi lei sentiva che avrebbe capito la sua esperienza di blablabla questa traduttrice è stata costretta a rinunciare all'incarico dall'indignazione dell'internet perché era bianca e diciamo questa è la prima puntata della storia oggi mi compare sul Guardian un'altra notizia che è che il traduttore spagnolo ha dovuto rinunciare perché non solo è bianco ma è pure maschio cioè proprio non si è mai visto niente del genere certo e questo giustamente mentre quell'altra aveva detto ah no capisco il problema rinuncio e lì secondo me si poneva la questione del ma se tu Amanda Gorman giovane poetessa nera ti sei scelta una bianca ma avrai diritto tu a dire chi rappresenta la tua voce o no o ci ha diritto più l'internet cioè siamo una follia totale questo spagnolo invece ha detto una roba interessante che adesso se trovo ti leggo e se no no che è sostanzialmente se io non posso tradurre Amanda Gorman non posso tradurre neanche Shakespeare perché non sono uno che ha vissuto nel 600 certo poi c'è la teoria che Shakespeare fosse una donna guarda è venuto qui al podcast Domenico Starnone e parlavamo proprio di questo tema e del fatto che il rischio concreto è che l'arte concepita in questa maniera nello specifico stiamo parlando di letteratura ma poi vale per tutte le arti ma adesso stando sulla letteratura l'unica dimensione che rimane aperta è quella dell'esperienza individuale e il rischio concreto è quello del narcisismo si mangi tutto cioè di scrittori che parlano solamente dalla loro vita da scrittori eccetera eccetera e non riesci più andare oltre il tuo ombelico è che una delle cose belle questo problema non esistesse già abbastanza che tutti convinti di essere Proust cambiano i nomi e chiamano i loro memoir romanzi sì ma voglio dire è sempre una questione di come fai le cose può benissimo essere che venga fuori una cosa positiva da questo però il punto è perché ridurre tutto uno spettro molto più ampio di una forma d'arte così importante a questo cioè magari c'è qualcuno che è capace di fare altro e lo sa fare bene e anzi è lì la dimensione proprio c'è tutta questa retorica dell'altro a cosa servono i romanzi se non a inventare delle cose ah sì anche io ti dico secondo me ci sta anche il ragionante di questo fenomeno è quello che riguarda gli attori per cui l'attrice non può interpretare il trans perché è donna perché è nata donna o non può interpretare c'è stato il problema di Cleopatra interpretata da una bianca e però Cleopatra era nera poi viene fuori che in realtà Cleopatra non era nera io non lo so perché ho fatto molta assenza nell'ora di storia per me Cleopatra è Liz Taylor cioè un attore la definizione del suo lavoro è interpretare altro da sé esatto la definizione del suo lavoro cioè sono le basi sì esatto mentre diciamo questo nella letteratura è una possibilità che secondo me andrebbe salvaguardata nel caso degli attori è esattamente il loro lavoro cioè quindi è ancora più surale cioè se tu non giri essere John Malkovich si presuppone che qualunque altra cosa tu giri tu faccia uno che non è John Malkovich sì sì no ma il problema è anche le forze di ricatto qui sono sottoposte poi tutte i produttori e le stesse le stesse piattaforme o comunque insomma tutti quei soggetti che poi creano questi prodotti alla fine non vogliono problemi questo questo Bretton Ellis ne parla molto bene nel suo libro White proprio l'unione virtuosa cioè armonica più che virtuosa di capitalismo e questa identity politics cioè si afferma così tanto non solo per i social come sono fatti eccetera ma anche perché non da è un modo per non dare problemi agli azionisti no? sì poi c'è anche quella questione a cui tu accennavi prima del del fatto che della piattaforma Rousseau cioè del fatto che quelli che berciano sull'internet sono tredici ma sembrano tredici milioni per cui adesso mi raccontano anche dalle redazioni dei giornali che appena qualcuno scrive qualcosa e arrivano tre tweet nelle redazioni si dice oddio siamo sotto attacco su internet ma sono tre coglioni sì beh però sono anche è anche una responsabilità loro questa perché sono gli stessi giornali e questo invece qua lo diceva che fanno i pezzi riportando i tweet è una cosa inspiegabile questo lo diceva anche Luca Bizzarri quando è venuto qua sono molto d'accordo cioè è proprio una follia non si capisce perché per ma anche se fossero cento tweet questa cosa deve andare in un home page di un quotidiano nazionale cioè qual è la logica in tutto questo no è un totale calamento di braghe rispetto a questa roba fra l'altro senza rendersi conto che nessuno di questi comprerà mai il loro giornale sì sì certo questo sicuramente però diciamo già non lo comprerebbero di base ma figurati se io compro un giornale per vedere le cose che vedo gratis su internet sì certo ma sì immagino che la logica lì sia non tanto vendere la copia del giornale ma fare del traffico no però sì è chiaro che tu stai no secondo me non è cioè sì è anche ovviamente fare del traffico ma c'è una questione più insidiosa che è la stessa che dicevamo prima a proposito della Pixar è il terrore di restare indietro rispetto alla modernità sì anche se poi secondo me adesso qua entriamo in un discorso tecnico professionale devi chiederti che spazio c'è per te nella modernità nel senso che se come dici tu quella roba ce l'ho gratis sui social non probabilmente io come giornale non avrò un posto nel futuro se faccio volante che sto tentando di sistemare sembrerò pazzo scusa no dicevo non è probabilmente quello che deve fare un giornale nel futuro dovrebbe fare trovare modo di fare che non è semplice proprio quello che sui social non c'è probabilmente comunque scusami tornando un attimo indietro alla questione guccia proporzione culturale questo è interessante perché dimostra anche il circolo in cui siamo inseriti cioè dici scusa ma quelli sì e noi no e diventiamo tutti questo io lo dicevo per paradosso ovviamente ne parlavamo per paradosso però effettivamente il meccanismo è quello io siccome poi secondo me c'è anche quella cosa che dicevi tu che il problema esiste solo se qualcuno se ne accorge in The Undoing che è questa serie che è andata su Sky in cui Nicole Kidman fa la psichiatra incompetente e il marito è un assassino e lei non se ne accorta adesso però abbiamo rovinato il finale a chi non l'avessi capito è vero tra la sì vabbè comunque pessimo finale dello spoiler sono i peggiori i suscettivi dello spoiler io una volta scrissi un pezzo su Repubblica dicendo che se non sapete come va a finire Desperate Housewives è un problema vostro perché avete vissuto su Marte e io devo poter scrivere come finisce una cosa finita tre anni prima mi sono arrivate una quanta di lettere di insulti vabbè comunque a me è successo questo Pranos anni fa però il punto è appunto secondo me il discrimine anche da quanto tempo è finita la serie cioè se stiamo parlando di una cosa di 30 anni fa hai avuto il tuo tempo di vederla ma non puoi neanche dire il sorpasso finisce che lui muore che ti azzannano perché io io pensavo di vederlo proprio stasera e adesso me l'hai rovinato ho capito fidia mia però hai avuto 50 anni per vederlo comunque a parte questo in questa serie di cui ormai abbiamo rovinato la visione a tutti e forse Sky ci farà causa nel qual caso vorrei dire che sei responsabile tu e non io non vedo come potrebbe essere altrimenti che è un'attrice italiana che ha condotto anche la prima serata di Sanremo fa la parte non si capisce bene non è mai definito però è sposata con un credo messicano non so adesso non vorrei dire sbagliatezze geografiche e però lei è italiana per cui qual è la cosa Mediterranea vale Mediterranea perché nessuno si è indignato di quella cosa secondo me perché nessun suscettibile di quelli abbastanza esposti da far partire la polemica se ne è accorto allora ti racconto questa che secondo me è divertente io siccome sono nato a Bolzano da noi c'è lo sport non è il calcio e l'hockey quindi guardo questo e quindi guardo le partite di hockey adesso in streaming però ovviamente questo non perché sono nato a Bolzano ma perché sono maschio patriarcale uno potrebbe dire certo ma l'altro giorno dicono c'è una specie di fallo che fallo non è fallo e uno dei commentatori dice vabbè ma non è che stiamo giocando freccetto stiamo giocando hockey e l'altro dice sì scusami però qua ti devo interrompere l'altro comunque in gambissima se sta sentendo questo e perché mi hanno scritto i giocatori di freccette che non possiamo dire questa cosa non ci posso credere ti giusto sono morto capisci che è un sabatoio di infinito cioè io potrei scrivere 25 seguiti io potrei tutta la vita ogni due anni fare una grande della societabilità è infinito cioè il giocatore di freccette che se la prende capisci cioè però però il punto è proprio questo le freccette le lasci stare esatto e anche noi abbiamo la nostra dignità e il punto è questo è che se una determinata cioè la libertà di espressione entro i limiti di legge che è giusto che ci siano è tollerata è quella per tutti allora tutti accettano che si possa parlare male o fare un esempio negativo non è neanche negativo comparativo con le freccette e va bene ma se incominciano a rompere le palle tutte una serie di categorie in automatico anche tutte le altre diranno cosa siamo noi siamo di meno e questo è il clima in cui siamo noi oggi ma ti dirò di più e tu non sarai d'accordo perché nessuno è mai d'accordo quando dico questa cosa e ovviamente questa è psicologia inversa per farti dire che invece sei d'accordo che io sono un estremista della libertà d'espressione per cui secondo me vabbè le freccette diciamo sono un caso limite ma anche le cose gravi cioè uno deve poter dire che coi vaccini ti inseriscono il microchip perché noi dobbiamo tendere a una società in cui se tu mi dici non ti vaccinare perché ti inseriscono il microchip perché Bill Gates vuole sapere dove vai a colazione io ti devo poter ridere in faccia cioè non devo essere come dire soggetta al fatto di dire oddio forse è vero cioè noi dobbiamo tendere a produrre degli esseri umani che riconoscono una cazzata non degli esseri umani ai quali una cazzata non può essere detta beh ma questo è assolutamente così su questo sono d'accordo c'è un problema un po' diciamo di amplificazione di queste cose proprio per le dinamiche di cui parlavamo prima per cui forse sulle piattaforme si può ragionare come trattare determinati però è un piano scosceso perché poi lì dopo chi decide cos'è da da penalizzare cosa no quindi quello poi ha tutta una serie di altri pericoli però in generale sì io avrei lasciato anche twitter a trump oltre al fatto che ci intratterevano ma certo ma ma su questo non ci sono dubbi ma poi scusami in ogni caso c'è un presidente eletto degli stati uniti un'azienda che opera nel suo settore in una maniera di in una condizione sostanziale di monopolio perché i social sono diversi ma fanno tutti cose sostanzialmente diverse cioè tu sei sei non puoi secondo me non potresti proprio fare curatela su questo capito perché a parte che proprio per legge loro non potrebbero farla se non sbaglio perché sono piattaforme non hanno gli obblighi e gli oneri degli editori perché non pagano i diritti non sono tutelati dalle querele contro la piattaforma e in cambio di questa cosa loro non potrebbero fare selezione dei contenuti tecnicamente non so come funzioni però so che io non voglio essere tutelata dalle cazzate che dice qualcuno cioè voglio tutelarmi da sola ma certo ma nel senso il principio è quello ma sai questo riporta un po' alla grande sfiducia oltre alla prepotenza anche la grande sfiducia che queste persone che invece spingono queste cose hanno nei confronti dell'umanità perché loro sono gli unici intelligenti e tutti gli altri non capiscono niente e da questo discende poi tutta una serie di cose che è appunto il fastidio per la libertà d'espressione se un'idea è pessima io sono dell'idea che poi verrà smontata dal dibattito se eviti il dibattito ma guarda che scusami guarda la situazione ma guarda i sondaggi cioè anche solo in Italia in questa situazione cioè non si fa altro che parlare di questi temi diciamo così del nuovo progressismo e il centrodestra sta al 49% cioè il centrosinista al 35% beh c'è tutta una scuola di pensiero io ho fatto un articolo durante le elezioni poco prima delle elezioni che poi ha vinto Trump raccontando tutta una scuola di pensiero secondo la quale Trump avrebbe vinto perché la sinistra invece di occuparsi del tenore di vita degli operai si occupava la sinistra americana si occupava di in quali bagni potessero andare i trans beh guarda se secondo me senza covid probabilmente avrebbe vinto Trump è comunque cresciuto in una serie di settori strategici di segmenti e soprattutto è cresciuto negli ispanici fai neri eccetera cosa che ha mandato in tilt tutto l'identitarismo facendo arrivare a dire non sono davvero neri quelli che hanno votato Trump c'è la categoria del biancore multiraziale per cui se hai votato Trump anche se sei nero sei bianco qua si torna diciamo al discorso della Venezia iniziale si è appunto doppio standard nel senso se sei con me va bene se no diventa un problema scusami con questa chiudo perché poi ti lascio andare tu citi a un certo punto un libro bellissimo che magari così avrà un po' più di diffusione in Italia che è quello di Jonathan Knight The Coddling of the American Mind che non è stato mai tradotto in italiano allora lui di solito è tradotto da codice se non sbaglio in Italia però questo ancora non credo sia stato tradotto però è un libro splendido che parla appunto del fatto di come la gioventù sia ai bambini poi ai adolescenti poi fino agli universitari americani almeno diciamo quelli borghesi con delle capacità di spesa delle loro famiglie vengono cresciuti sostanzialmente nell'ovatta più assoluta e questo intende non vengono sottoposti a nessun tipo di stress o di confronto con l'altro con quello che potrebbe non piacerli ecco secondo me questa è la chiusa perfetta del nostro discorso perché è questo sistema che vuole farsi mondo cioè l'idea che tu non ti devi confrontare nella tua esistenza con niente che ti possa portare fuori la tua comfort zone che ti possa turbare che ti possa mettere in discussione no e tutte queste cose questo insieme di cose di cui abbiamo parlato di cui tu parli nel tuo libro un po' risponde a questa logica sì l'idea che dobbiamo essere è un po' la cosa che dicevo poco fa rispetto alla libertà d'espressione ai vaccini l'idea che noi dobbiamo essere tutelati da ciò che ci disturba da ciò che ci contraddice da ciò che ci mette in difficoltà ci sono due discorsi di Barack Obama che io cito nel libro che lui ha fatto degli universitari in cui lui stesso che è un americano di sinistra nero quindi insomma diciamo completamente in target di questa tipologia di dialettica e dice ma cos'è questa storia che non fate parlare gli oratori di destra nei campus perché vi turbano cioè dovete imparare ad affrontarle le cose che vi turbano fra l'altro io non riesco proprio a immaginare come questa generazione di piscialetto che stanno tirando su e che vengono tutelati da qualunque dissenso possa poi diventare da grande cioè già siamo diventati una schifezza noi che venivamo diventati meno coi guanti figurati questi sì beh lo vedi però cioè nel senso poi sono quelli che vanno a fare gli stagisti a casa editrice e chiedono o a Spotify e chiedono di censurare il libro tv di Allen e chiedono di non prendere Rogan a Spotify cioè nel senso è questa gente qua questo è il mondo delle idee che il problema è che finché fai lo stagista in una casa editrice sei comunque in un ambiente che perpetua questo questa protettività vendicativa come la chiama Hilt e il problema è se poi ti trovi a dover lavorare in un bar e il barista il capo del bar il proprietario del bar ti maltratta come dice Roc in quel monologo che citavo prima chi se ne importa se sei un genio della programmazione informatica se poi la prima volta che il tuo capo non ti saluta ti metti a piangere ma guarda il punto è che quello che deve andare a lavorare nel bar perché non ha altre alternative prima o poi si adatta e guarisce da questa cosa e diventa di nuovo un essere umano però non saresti stato un genitore migliore se l'avessi addestrato ad adattarsi non c'è dubbio però il problema c'è il problema il fatto il dato di fatto è che molti di queste persone non ci andranno mai a fare barista capito anche se guadagneranno pochissimo rimarranno nell'ambito rimarranno intellettuali squattrinati piuttosto che provarsi o sottopagati però la grossa soddisfazione sarà appunto fare i censori del mondo capito anzi magari a maggior ragione hai un incentivo ancora più grosso ad essere censore nel momento in cui ti pagano gli spiccioli e sei super frustrato passeremo da una generazione che veniva pagata due spicci dai giornali ma comunque la zia al paese poteva dire mia nipote scrive sul giornale al dire il giornale non li legge nessuno quindi neanche mia zia se ne accorge però posso chiedere la testa di Woody Allen esattamente esattamente così tra l'altro ti posso insomma ne avrei fatto esperienza anche tu che per i giovani insomma i giornali sono inesistenti io una volta c'era qua mia nipote avevo un pass di un quotidiano nazionale con quello stato a fare un reportage e mi ha detto cos'è questo? era uno dei due giornali più venduti d'Italia ed è insomma una ragazza che va anche bene a scuola ma sei per quello guarda la televisione generalista fa milioni di spettatori ancora perché nonostante la diamo per morta ha ancora dei numeri enormi e io ho parecchi amici autori televisivi tutti disperati perché nessuno dei loro figli sa cos'è un canale televisivo cioè quando gli dicono questa cosa la puoi vedere su Re 2 dicono e cos'è senti guarda ultimissima domanda tu come la vedi per il futuro? cioè nel senso secondo te siamo sulla no ma nel senso nel senso no lo so però siamo diciamo sulla punta dell'onda o sull'apice e quindi poi questa cosa non lo so sai è una cosa su cui ho riflettuto molto e di cui chiacchiero molto privatamente con amici cioè si torna indietro da questa scemenza o no? io a seconda delle giornate cambio idea cioè oggi appunto avendo letto appena sveglia del traduttore spagnolo della Gorman penso di no però boh tu cosa dici? allora io direi che umanamente è sempre successo che ci sono delle onde che ci siano appunto gli andamenti di questo genere a picchi e depressioni diciamo nella cultura umana quello che potrebbe fermare questo genere di andamento è appunto la questione tecnologica visto che ormai la maggior parte delle persone si esprime per esistere per lavorare su queste piattaforme che incentivano determinati comportamenti il rischio che questo cristallizzi un po' questa situazione se fossimo in una situazione diciamo in società umana meno mediata tecnologicamente non avrei dubbi a dirti che prima o poi finisce anzi probabilmente non sarebbe mai neanche iniziata in questi questi termini forse vedremo inizia comunque l'era della suscettibilità lo trovate nella descrizione sia su youtube sia sui canali audio c'è il link bel libro vorrà la pena e non vi deprimerà nonostante i temi grazie Guia buona giornata grazie a tutto il tempo ciao 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 ciao